Ciao ragazzi e benvenuti in questo, quello è la soffita di Drago Ora giocheremo a questo A seguire il cervo senza la tonnare Drago e Dei Questo è l'ultimo errore, l'ho fatto l'altro E vai ce l'ho fatta Ok ragazzi oggi è tutto eh Eh sì, il caramento è in corso Ok questo è tutto eh Sottoscritti sul mio canale e ci vediamo al prossimo video eh Bella ragazzi